Che si fa? Si filma o no? Io sono filentino. E io l'ho detto, guarda, ho detto, va vai, è filentino. Quindi, sì, sì, sì. Senti, un colo sporco, uno pulito. Guarda, è più bello, che ti piace di più? Sporco, come hai detto, mi sei bello. Esattamente, c'è stato positivo, quindi guardiamo avanti, piace tutti i partiti. Stai bene, ma la volta scorsa stai veramente male, la partita scorsa con la Lazio, insomma, poi ti hai creato dentro lo stesso. Sì, sì, ma io cerco sempre di dare il contributo della squadra, perché se sto male, c'è anche di interagire, dentro dare il tutto. Quindi è stata una partita così, ma è passata proprio nel futuro. Speriamo di riuscire in tutte le partite.